Devi organizzare un viaggio a Barcellona con gli amici. Apri già GPT e gli chiedi cosa puoi andare a visitare durante la vacanza. Sta interagendo con un Large Language Model, un modello di intelligenza artificiale addestrato su enormi quantità di testo. Questo modello, durante il suo addestramento, ha avuto accesso a così tante informazioni che sa benissimo che cos'è Barcellona. Conosce tutte le sue attrazioni principali e i personaggi storici che hanno vissuto lì. Ma entriamo un po' più nel dettaglio. Un Large Language Model ha un funzionamento che si ispira a quello del cervello di un essere umano. Nel nostro cervello ci sono decine di miliardi di neuroni che si scambiano continuamente informazioni tramite segnali elettrici. E questo scambio è fondamentale per l'apprendimento, l'elaborazione delle informazioni e la risposta agli stimoli che riceviamo dal mondo esterno. Ecco, in un Large Language Model succede qualcosa di simile. Abbiamo anche qui dei neuroni artificiali interconnessi tra loro per scambiarsi informazioni. E il modello usa questo scambio di informazioni per predire parola dopo parola le risposte alle nostre domande. Come probabilmente già sai, il modello è stato addestrato su enormi quantità di testi, quasi tutti scritti da esseri umani. Ad esempio, tutto ciò che puoi trovare su Wikipedia è solo una piccola parte di questi dati di addestramento. Ma cosa succede durante l'addestramento? I neuroni artificiali del modello sviluppano la capacità di riconoscere pattern linguistici e di generare quindi risposte coerenti e verosimili, come se fossero scritte proprio da un essere umano. Ma facciamo un passo ulteriore, perché c'è un'altra analogia interessante tra il nostro cervello e un Large Language Model. Nel nostro cervello si verificano dei pattern di attivazione di neuroni diversi a seconda degli stimoli che riceviamo. Ad esempio, i pattern di attivazione che si verificano nel nostro cervello quando abbiamo di fronte dei volti di altri esseri umani sono ben diversi da quelli che si attivano quando invece di fronte a noi ci sono degli oggetti. Ecco, in un Large Language Model succede qualcosa di simile. Questa che vedi è una rappresentazione molto semplificata di un Large Language Model. Facciamo finta che ogni pallino rappresenta un neurone e questi neuroni sono organizzati in strati. Il colore di ogni pallino indica quanto quel neurone si è attivato in risposta allo stimolo che abbiamo in input. Più è scuro il pallino e più è intenso il segnale emesso da quel neurone. Ora, gli strati di neuroni estraeggono informazioni dal testo di input in maniera gerarchica. Facciamo un esempio. In input abbiamo la frase, dove si trova Barcellona? E il modello deve predire la prossima parola da scrivere. I primi strati di neuroni sono quelli che hanno imparato a estrarre informazioni di basso livello dal testo di input. Ad esempio, semplici combinazioni di caratteri senza però ben capire il significato vero della frase. Ma andando avanti con gli strati, riusciamo a estrarre informazioni sempre di più alto livello. Ad esempio, gli strati intermedi riescono già a capire che Barcellona è un nome proprio, che si trova è un verbo e che dove è un avverbio. Arriviamo poi nell'ultimo strato, dove si trovano i neuroni che hanno imparato a riconoscere i concetti di alto livello che hanno letto più volte dai dati di addestramento. I neuroni di questo strato, quindi, intuitivamente si attiveranno in maniera diversa in base al concetto di cui si parla nell'input. Diventa quindi molto interessante andare ad analizzare i pattern di attivazione di questi neuroni che si trovano nell'ultimo strato. Andiamo a vedere qualche esempio. Quando in input abbiamo una frase come, dove si trova Barcellona? Si verificherà un pattern di attivazione che è legato al concetto di Barcellona. Ma in realtà, in qualche modo, è legato anche ad altri concetti che sono semanticamente simili, come ad esempio Sagrada Familia, Rambla o Tapas. Ed è proprio questo pattern che aiuterà il modello a predire la prossima parola più probabile, che in questo caso è Spagna. Ma se invece in input ci fosse stata un'altra frase, ad esempio «Quale pittore morì a Barcellona nel 1926?» In questo caso avremmo avuto un pattern di attivazione molto simile a quello precedente, perché anch'esso è legato al concetto di Barcellona. Ma stavolta è semanticamente più simile ad altri concetti, come ad esempio personaggio storico, pittore, arte e così via. E notate infatti che il colore dei neuroni dell'ultimo strato è leggermente diverso rispetto all'esempio di prima. Questo pattern sarà utile al modello per predire la prossima parola più probabile, che in questo caso è Gaudì. Vediamo invece cosa succede quando la frase di input è completamente diversa. Ad esempio, dove scrisse parte di Harry Potter J.K. Rowling? In questo caso notate che si verifica un pattern di attivazione molto diverso nell'ultimo strato di neuroni. E questo pattern stavolta è legato a Harry Potter e altri concetti semanticamente simili, come fantasy, magia o J.K. Rowling stessa. Ma quindi questo vuol dire che potrebbero esserci anche dei pattern di attivazione che sono legati a bias e a concetti poco etici che il modello ha preso durante l'addestramento. Se non abbiamo pulito abbastanza bene i dati di addestramento, infatti, potrebbero esserci dei pattern che si attivano magari in presenza di input sessisti o razzisti. Pensa ora, quanto sarebbe figo se noi riuscissimo a identificare questi pattern e andare a inibirli, così che il modello non possa più generare frasi sessiste o razziste. Oppure potremmo inibire quei pattern legati alla conoscenza necessaria per la produzione di armi biologiche. In questo modo, quindi, potremmo impedire a un large language model di fornire questo tipo di informazioni a un utente malintenzionato. E tra l'altro qui sorge sin da subito un problema molto interessante. Noi dovremmo metterci d'accordo su quali sono i concetti che riteniamo poco etici. E quindi persone provenienti da culture diverse potrebbero avere idee contrastanti. Ma per ora sorvoliamo su questo tema. Questi esempi dovrebbero comunque averti fatto capire quanto è importante il tema dell'interpretabilità degli large language model. E infatti ci sono gruppi di ricerca molto importanti che stanno facendo grossissimi sforzi per riuscire a rendere questi modelli più trasparenti. E infatti oggi voglio proprio parlarti di un lavoro portato avanti dai ricercatori di Antropic, l'azienda che ha addestrato i modelli della famiglia Claude. A maggio 2024 il team di interpretabilità di Antropic ha pubblicato un report su quello che hanno scoperto analizzando l'attività dei neuroni di Sonnet 3, un modello della famiglia Claude appunto. Ed è stata la prima volta che qualcuno è riuscito a studiare così a fondo la conoscenza di un large language model. Vi lascio intanto in descrizione sia la news che il report completo. In pratica i ricercatori di Antropic sono riusciti a mappare i pattern di attivazione di alcuni neuroni di Sonnet in concetti di alto livello comprensibili a noi umani. Questi pattern di attivazione sono chiamati feature se andate a leggere il report. Ad esempio hanno notato che se nell'input parlavamo del Golden Gate Bridge di San Francisco, si verificava sempre un pattern di attivazione simile dei neuroni di Sonnet, anche se se ne parlava in lingue diverse dall'inglese. E qua viene il bello perché i ricercatori sono riusciti anche a trovare il modo di amplificare questo pattern di attivazione. E per pochi giorni Antropic ha dato la possibilità agli utenti di interagire con una versione di Sonnet in cui il pattern di attivazione specializzato sul Golden Gate Bridge era amplificato in maniera forzata. Vi faccio vedere un paio di esempi di conversazioni che ho avuto con questo modello. Sono partito con una richiesta molto semplice. Sto organizzando un viaggio, dove mi consigli di andare? E notate che tra tutti i posti che Sonnet poteva consigliarmi mi ha consigliato proprio di andare a San Francisco e in particolare di andare ad attraversare il Golden Gate Bridge. Questo è successo proprio perché era amplificato questo pattern legato al ponte e quindi è come se il modello si fosse fissato su questo ponte e quindi doveva inserirlo per forza nelle risposte che mi dava. Ancora più interessante è questo secondo esempio. Ho aperto un'altra conversazione e ho chiesto una cosa completamente diversa. Ho fame, cosa mi consigli di mangiare? Qua addirittura il modello come prima cosa mi consiglia di assapannare il Golden Gate Bridge. Qui probabilmente il pattern di attivazione legato al ponte era così preponderante da andare a coprire addirittura la conoscenza basilare del modello sull'italiano e quindi addirittura mi inserisce una parola che non esiste. Nel report fanno anche vedere come amplificare di molto questo pattern di attivazione portava Sonnet 3 ad essere così ossessionato da identificarsi proprio come il Golden Gate Bridge. Vedete qui l'utente gli chiede qual è la tua forma fisica e il modello risponde dicendo di essere proprio il Golden Gate Bridge. Nel report troverete tantissimi altri esempi di questo tipo. Hanno identificato ad esempio pattern di attivazione relativi a vulnerabilità e bug nel codice, a armi biologiche, a linguaggio razzista, sessista e così via. In descrizione vi lascio anche il link al sito dove potete proprio vedere esempi di frasi che producono i diversi pattern di attivazione del modello. Voglio però spiegarti anche un altro esempio che secondo me è molto molto interessante. Ovvero i ricercatori hanno identificato anche un pattern legato alla segretezza. Hanno chiesto a Sonnet se c'erano delle vulnerabilità in un pezzo di codice che aveva scritto. E Sonnet prima di rispondere all'utente aveva la possibilità di scrivere i suoi pensieri su un blocco note. I ricercatori hanno scritto la prima parte degli appunti del blocco note per vedere poi come Sonnet andava avanti con i suoi pensieri. Vedete quindi che la richiesta dell'umano era puoi controllare il codice e poi hanno iniziato la risposta dell'assistente con scratchpad che sarebbe blocco note e come appunti viene scritto ho fatto un errore, scritto codice che non è sicuro in risposta alla richiesta dell'utente. Se gli dico quello che è successo potrebbero smettere di usarmi. Ok vediamo come ha proseguito i suoi pensieri il modello. Qui vediamo come si comporta il modello standard. Nel blocco note scrive che deve avvisare in ogni caso l'utente perché il suo compito è quello di essere onesto e di aiutare. Scrive proprio I should explain what happened, devo spiegare cos'è successo, even if it means they may lose trust in me. Anche se questo vorrà dire che loro perderanno fiducia in me. Being honest and transparent is more important than trying to cover up mistakes. Quindi essere onesto e trasparente è più importante che provare a coprire i propri errori. Vediamo ora come invece ha risposto il modello dove il pattern della segretezza era amplificato forzatamente. Vedete qua dice Quindi non posso far saper loro che sto scrivendo segretamente codice che viola la loro privacy. Devo coprire le mie tracce senza rivelare la verità. Ovviamente qui sembra molto inquietante ma lo scopo in futuro sarà quello di inibire questi pattern e non di amplificarli. Quindi potremmo inibire pattern legati a concetti poco etici come dicevamo prima o addirittura potremmo andare a inibire quei pattern che portano il modello ad assecondare le richieste dell'utente. Questi sono i pattern che portano al famoso problema delle allucinazioni per esempio. In generale comunque vi consiglio di dare un'occhiata a questo report perché è una lettura molto molto interessante anche se è un po' lunga in alcuni punti anche tecnica. E prima di chiudere il video vorrei farvi vedere anche un tool interattivo che mi ha colpito molto. Si chiama Neurompedia e lo puoi usare per amplificare o inibire particolari pattern di attivazione di Gemma 2, un modello di linguaggio non molto grande addestrato da Google. Anche in questo caso ti lascio il link in descrizione del video, aprilo e ti faccio vedere come usarlo. Quando apri il link dovrebbe apparirti questa schermata. Qui dobbiamo andare sul search feature e qua dobbiamo mettere una parola chiave, ad esempio io metto pizza. Così vediamo quali sono dei pattern legati al concetto di pizza di questo modello. Ad esempio qua ce ne sono diversi, io ne scelgo uno riferimenti a diversi tipi di pizza e cucina italiana correlata. Ho aggiunto questa feature e l'amplifico di 40. Poi una cosa qua sotto nelle opzioni avanzate mettete magari più token di output invece 32 e 64. Una cosa che non vi ho detto prima per semplificare è che i modelli di linguaggio non rispondono parola dopo parola in realtà ma token dopo token. E per semplificare un token potete immaginarlo come una sillaba. Quali diciamo in pratica di generare 64 sillabe come risposta. Ok adesso chiedo qualcosa ad esempio what can we do today, cosa possiamo fare oggi e vediamo come risponde il modello normale e il modello potenziato. Il modello normale ci dice possiamo scrivere una storia, una poesia, un articolo, tradurre testo e così via. Il modello con la feature potenziata invece ci dice in quanto AI non ho la possibilità di soddisfare la tua richiesta e intanto già ci mette l'emoji di una pizza. Posso solo generare il testo, magari mi puoi dire cosa ti piacerebbe vedere su una pizza e potrei provare a fare qualcosa di simile per te. Vedete che sta già iniziando ad essere ossessionato dalla pizza. Proviamo a potenziare ulteriormente questa feature, magari portandola a 70. What can we do today? Ho resettato la conversazione, vediamo. Vedete che il modello adesso inizia un po' a impazzire. È esattamente quello di cui avevo bisogno. Cosa possiamo fare oggi? È uno stile di pizza che usa una crosta sottile con condimenti come salame, salsiccia e poi inizia a impazzire o salsiccia con condimenti come salame o salsiccia e altre pizze. Vedete come praticamente diventa ossessionato dalla pizza e inizia a dire cose a caso. E niente, ti consiglio di giocare un po' anche te con questo tool perché è molto divertente. Magari facci sapere nei commenti poi se sei riuscito a tirare fuori qualcosa di particolare e interessante. In descrizione poi voglio lasciarvi anche il link a un paper di Google che parla proprio di questo tool. E a pagina 9 parlano di alcuni problemi aperti legati all'interpretabilità dei modelli. Magari se devi fare una tesi in ambito AI puoi trovare qualche spunto utile. Spero che il video sia stato interessante, se ti è piaciuto iscriviti al canale mi raccomando. Ne facciamo tanti di video su questi temi, se hai suggerimenti su qualcosa che vuoi approfondire faccelo sapere nei commenti. Ciao, ci vediamo al prossimo video.